è solo di antipolitica, l'antipolitica secondo me è un fenomeno tutto interno alla sinistra ed è qualcosa contro la cattiva politica della sinistra. Per quanto ci riguarda noi registriamo che ci sono migliaia e migliaia e migliaia di ragazzi, ragazze e ragazzi, anche di persone anziane ma che hanno tempo da dedicare, che per una giusta causa come quella di una vera completa democrazia, di una vera e completa libertà, danno se stessi e si attivano per realizzare delle iniziative che credono positiva. Quindi grazie a tutti i militanti di Forza Italia e della Casa delle Libertà che hanno profuso il loro impegno per realizzare queste iniziative. Grazie, grazie. No, no, no. Grazie.